gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia le intercettazioni di palamara sul suo whatsapp dal 2017 ad oggi rivelano che chattava parlava scriveva a centinaia di persone politici vip abbiamo visto gli insulti a matteo salvini pezzo di m dobbiamo attaccarlo anche se non sta facendo nulla di male abbiamo visto raul bova che gli chiedeva aiuto la mia sentenza mi vogliono mettere in galera sono l'unico che c'è qualcosa è una sentenza mirata e adesso vengono fuori che nelle chat c'era anche zingaretti e minniti quella rete rossa di palamara quindi c'era di tutto da sportivi ministri politici giudici vip la tela su cui poggiava il sistema di potere creato da luca palamara comprendeva al suo interno le categorie più disparate quindi centinaia le chat del magistrato indagato per presunta corruzione emergono nomi noti e anche meno noti abbiamo ad esempio due deputati del pd luca lotti cosimo ferri ora dice l'espresso nuovi messaggi potrebbero travolgere in pieno esponenti della magistratura e far imbarazzare noti esponenti politici e al momento nessuno è indegato ad eccezione di palamara per presunta corruzione quindi richieste scambi relazioni incontri aperitivi caffè disegnano la degenerazione sviluppatasi nella magistratura negli ultimi dieci anni quindi invece che migliorare la magistratura allontanandosi col tempo da dal passato dalla prima repubblica craxi berlusconi no le cose sono peggiorate non sono migliorate ma nelle chat di palamara saltano all'occhio anche esponenti di spicco del partito democratico nicola zingaretti nel marzo del 2018 segretario del pd dopo la vittoria alle regionali riceve gli sms di congratulazioni di palamara grande nicola scrive grande vittoria ripartiamo da qui tutti insieme e zingaretti ringrazia con tre punti esclamativi grazie con tre punti esclamativi non è finita qui perché il 23 di maggio 2019 prima delle europee palamara scrive a che non ti vogliamo molto occupato questa è la risposta di un'affermazione fatta da zingaretti sul possibile esito di quelle elezioni se perdo disse il segretario dem avrò molto tempo libero ma palamara dice ti vogliamo molto occupato le chat sono depositati al tribunale dai giudici di giudici umbri e consegnate agli avvocati difensori partono nel marzo 2019 e proseguono fino al 29 maggio del medesimo anno lo stesso giorno in cui viene data la notizia delle indagini di perugia sui rapporti tra palamara e fabrizio centofanti in quei mesi il pm e il politico si incontrano più volte caffè cene appuntamenti in vari bar romani non conosciamo tuttavia i temi delle discussioni sempre secondo squatto scritto dall'espresso nell'ottobre del 2018 zingaretti avrebbe inoltre organizzato un incontro tra palamara e il commissario straordinario nicola tasco capo di un istituto regionale di studi giuridici controllato dalla regione lazio a questo proposito c'è chi ipotizza che zingaretti indagato nel luglio 2018 dalla procura di roma assieme a centofanti per un presunto finanziamento illecito volesse ingraziarsi un pm della procura di roma quindi ombre si annidano intorno a nicola zingaretti intanto nelle chat di whatsapp dell'ex pm palamara c'è anche marco minniti siamo tra luglio 2017 e novembre del 2018 palamara membro del consiglio superiore della magistratura e il ministro dem del pd minniti si sentono più di una volta cosa si dicono ad esempio lo fanno in vista di importanti nomine nella magistratura discutono del nuovo procuratore di napoli dalle conversazioni scrive l'espresso minniti sembra imbastire strategie insieme a palamara 2018 palamara si rivolge ancora minniti lamentandosi di un fatto ben preciso buongiorno marco sarebbe minniti ci tenevo ad informarti che da questa mattina mi è stato sospeso il servizio di protezione non essendo stata concessa al momento ulteriore prorga risposta ok adesso vedo alla fine conclude l'espresso palamara non sarebbe riuscito a riottenere la scorta quindi capite che questo palamara imbastiva la sua rete sociale perché se tu comunque hai tutti questi contatti potenti anche se è solo per congratulazioni comunque tu hai i contatti i contatti sono vita nel senso che ti permettono di galleggiare allo stesso livello di questi politici importanti e magari ricevere da questi degli incarichi perché se tu comunque sei in contatto con i vertici di un partito metti che vanno al governo potrebbero nominarti anche ministro della giustizia potrebbero nominarti sottosegretario e potrebbero nominarti a capo di un ente come direttore generale potrebbero chiamarti come consulente comunque avere come amico nicola zingaretti il ministro dell'interno minniti e parlare con questo e quel alto politico può comportare dei vantaggi che non nell'immediato magari possono arrivare all'improvviso come sorpresa più avanti quindi in queste chat con nicola zingaretti esattamente per quello che emerge non si ravvede quello che vi ho raccontato da quelle poche estrapolazioni delle chat non si ravvede nessun tipo di atteggiamento sospetto però si dice che si sono incontrati si sono incontrati parecchie volte no quindi nelle chat sono non è solo matteo salvini che è spuntato che va attaccato anche se ha ragione però come dicevo in questi mezzi zingaretti e palamara si sono incontrati più volte caffè cene appuntamenti in vari bar romani non si conoscono i temi delle loro discussioni sempre secondo quanto scritto dall'espresso zingaretti nel 2018 avrebbe inoltre organizzato un incontro tra palamara e il commissario straordinario nicola tasco capite che perché un alto magistrato e un capo politico si incontrano per caffè cene e appuntamenti in vari bar romani naturalmente questi incontri hanno un fine non credo che era perché sono così tanto amici che hanno bisogno di vedersi tra caffè cene e appuntamenti in vari bar romani e non credo che zingaretti vada dicendo questo vuole andare a cena con me e vabbè ci vado anche zingaretti se non avesse avuto un possibile tornaconto non sarebbe andato a queste cene immaginatevi se un politico va a cene bar caffè a tutti quelli che lo possono conoscere o possibilmente capite che risulterebbe abbastanza strano però comunque attualmente non c'è nulla che possa indicare che zingaretti abbia fatto qualcosa di strano che abbia fatto delle delle dei colloqui strani con questa persona sta di fatto che bisogna anche tenere presente questi fatti nel quadro complesso delle delle cose io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è assolutamente gratuita comporta solamente l'aiuto al canale ad essere più visibile nella community trovate anche tanti sondaggi a cui potete partecipare tanti piccoli piccole notizie articoli io vi ringrazio per avermi ascoltato siamo anche in facebook nella pagina tele italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in youtube io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti al prossimo video ciao ciao